ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere come usare i tag in palo alto ci sono anche per checkpoint ad esempio allora partiamo subito su policy e guardiamo un attimo cosa abbiamo qui abbiamo diverse policy che ovviamente sono state create apposta per questo video quindi in realtà non funziona cioè nel senso non c'è niente collegato nel nel lab allora vediamo un po come si può fare ora tu immagina di avere decine e decine di policy quindi e come vedi qui dal dalla zona io per esempio ufficio a che deve collegarsi all'ufficio B per questo server con questi servizi RDP HTTPS questo è un esempio immagina di avere decine e decine di policy la cosa diventerebbe ingestibile perché non ti ricordi è impossibile ricordarsi tutti i server o tutti i servizi o i dipartimenti in questo caso zone eccetera quindi ci viene in aiuto i tag per far questo basta andare su object tag add e creiamo un tag per esempio prendiamo inside e mettiamolo di colore verde poi dopo ci puoi aggiungere anche commenti e volendo poi prendiamo outside outside e ci mettiamo di colore rosso perché internet poi dopo prendiamo tutti gli altri e mettiamoci dei colori a caso devops green no green è già usato allora blu add ancora marketing mettiamoci orange poi prendiamo per esempio ufficio a mettiamoci il colore gray ufficio b e poi basta perché lo abbiamo capito yellow ok a questo punto ritorniamo sul nostro policy e andiamo su tag se non vedi tag la colonna basta andare per esempio qui sul nome colonne e selezioni tag bene bene tag vedi intanto mi ha messo colori inside e outside vpn users non c'è colore perché non l'ho selezionato però inside è verde allora andiamo su internet access tag e mettiamolo per esempio questo inside to outside e lui me lo mette verde e qui sulla sinistra vedi c'ho una policy inside di cinque policy vpn to external vpn to external che non è qui perché ovviamente ci manca perché non l'ho messo nel tag allora passiamo a quest'altro ufficio b appena si apre tag ufficio b ok poi vpn policy vpn lab policy non ce l'abbiamo abbiamo marketing se non sbaglio e anche in questo caso selezioniamo marketing che è arancione ok e come vedi qui ci dà i vari tab colorati qui ora ti devi immaginare di avere tante access list perché in questo caso chiaramente sono cinque policy quindi non è niente allora se io clicco su marketing qui su a sinistra vedi che mi seleziona solo la riga del marketing quindi se io avessi tante policy sotto marketing lui mi rilancherebbe tutte qui e se ovviamente ho da creare una nuova policy per marketing mettiamo che la nuova policy richiesta è dall'ufficio di marketing che deve quindi facciamo diamogli il nome per esempio accesso server server non lo so proprio non ho idea manifattura fattura tag marketing sorts andiamo a selezionare la nostra rete che in questo caso è di marketing andiamo a selezionare la nostra destinazione che si trova per esempio nell'ufficio b e diamogli la destinazione del server 190 268 90 12 per esempio poi service url categories andiamo a dare htps eccolo qui poi se ha bisogno anche non lo so per esempio dell'ardp o di qualsiasi altro servizio palo alto già ha molte categorie già predefinite e le diamo ok come vedi lui le aggiunge qua quelle che non sono state non hanno la categoria quindi non hanno il tag le troviamo qui vedi non una che abbiamo queste due che eccole qui aspetta devi far casa una cosa ora te la faccio notare vedi abbiamo due policy se io clicco qui su marketing lui mi fa vedere quelle che non hanno il tag e quelle che hanno il tag perché devi fare attenzione qui lo vedi che non non uno è selezionato quindi lo devi deselezionare e così ti fa vedere solo le i tag quindi le policy relative a quel settore così se hai tante policy puoi come dire gestirle molto meglio perché ovviamente se hai decine e decine di policy la cosa diventa molto complicata molto ingestibile volendo puoi come ho detto prima mettere la descrizione basta andare su colonne e dirgli selezionare description e come vedi hai le descrizioni per il momento è tutto sul tagging spero che ti sia utile e grazie di aver guardato il video fino a qui